Il posto di raduno è stato attaccato. I CEF attaccano dalla 42esima a Broadway. È in corso un'evacuazione aerea, ma ci vorrà tempo. Alcatratti, calamari stanno aprendo un barco. Di qui, via! Difendi il sito di evacuazione aerea. Raggiungi il barato d'Axwell. Alcatratti, di qua! Mi capro io! Alcatratti, devi trattenere i CEF dalla tua parte del muro. Abbiamo civili dappertutto, gravemente feriti. Una situazione incertibile. Se i CEF sfondano, sarà un passato. Guadagna tempo per noi, marini. Cyclob 1 in bandenza. Ce ne abbiamo qui, Cyclob 3. Abbiamo subito gravità. Non possiamo stare qui a l'uomo. Prese punto, Cyclob 3. Potete atterrare. Ci troviamo noi. Alcatratti, non possiamo stare qui a l'uomo. Alcatratti, non possiamo stare qui a l'uomo. Scoglotto, subito da casa. Capito, per favore! Compritevi! L'uomo! RENATRICK! RENATRICK! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!